Senti, sei stato solo a Sanremo o sei stato... No, sono stato un po' in giro, sono mancato due mesi, sono stato in America, in America. Ah, in America! In America... In America sei andato. Sono stato fino in America, sì, sono stato in America. E te è piaciuta l'America? In America, Nilla, veramente, tutto quanto è più grande. C'hanno tutti, c'hanno dei piselli che sono così in America. Ma non mi dire. I cocomeroni, i cocomeroni ci vuole... L'ape, è presente l'ape, quello di cocomeroni che sono così. Con un concomero ci mangia tutto quanto. Pensa che io sono arrivato in America, arrivo in un albergo, sono arrivato in un albergo, non un alberghi come qua, una stella, due stelle, 20, 40, 50, 60 stelle. Sì, la bandiera addirittura. Arrivo lì, con le stelle sono già finite le fiere, torno indietro. Dicevo, mi ero fatto una lista perché mi ero dimenticato qualcosa, no? Allora mi ero dimenticato il dentifricio. Come al solito. Come al solito, noi artistici mi diciamo. Dentifricio, spazzolino, mi scrivo qua. Vado giù, chiedo nel lavoro, scusa, volevo andare in farmacia, no problem. Mi mandi in... Street? Street. Street? Che poi chi sa perché la chiamano street, che è larga, che non finisce mai. La chiamano, vabbè. Allora arrivo lì nella street, c'è la farmacia, dico scusa, volevo comprare il spazzolino. È andato di là, mi ha portato uno spazzolino. Per il drug store. Chi c'era? Drug store. Quale farmacia? Non ti ho scritto farmacia. Sì, vabbè. C'è scritto drug store o apoteche? Allora. Io ho letto in italiano. Vabbè, sì. Ti è andata bene. Ti è andata bene. Ti è andata bene. Allora, scusi, mi sono dimenticato il spazzolino. Mi è andato di là, mi ha portato uno spazzolino a 70 centimetri. Dico, ma non ci sarebbe un attimino più piccolino? No, mister Moni, in America tutto quanto è più grande. Vabbè, mi dia anche del dentifricio, ma confezione di famiglia, perché... Cioè, confezione normale perché è confezione di famiglia. Con la carriera, un tubetto da 80 kg, era alto. Dico, ma non ci sarebbe un attimino più piccolino? No, mister Moni, in America tutto è più grande, tutto è più grande. Ti giuro, Nilla, visto così, chiudo il mio bigliettino, sto per andare via. Mi fa, mister Moni, dovevi comprare qualcos'altro? Sì, sono delle supposte, è meglio che le compri in Italia. Vabbè, ci vediamo dopo. Io ti lascio perché vado a scaricare il bigliettino. Grazie! Ciao! Ciao a tutti!